Salve a tutti, mi trovo nel comune di Bellezzano in una strada già ripresa molte volte che collega il comune di Bellezzano al comune di Cava come possiamo vedere dalle immagini la situazione è sempre la stessa non è modificata, non è cambiata da circa un anno ci troviamo con la stessa problematica in quest'area cumuli di spazzatura ovunque spazzatura nuova che nelle immagini nel video precedente circa un anno fa non era presente quindi la situazione si è completamente aggravata di fronte abbiamo quest'altro cumulo di spazzatura di vario genere calcinacci, pneumatici e quant'altro da qui vediamo che la situazione non è cambiata neanche al ridosso della montagna quindi possiamo vedere che è una vera discarica anche lì fuori al cielo aperto ma la cosa che mi lascia davvero stupito e a bocca aperta è questa autovettura completamente lasciata lì abbandonata e buttata, gettata via lungo questa montagna un'auto a pezzi di dubbia provenienza abbandonata qui completamente buttata via in una montagna abbandonata così gettata completamente via ora mi domando visto che da anni questa situazione in quest'area non cambia è sempre la stessa anzi col passare del tempo peggiora sempre di più il problema potrebbe essere risolto dalla pubblica amministrazione installando delle telecamere in modo tale da poter denunciare il fatto illecito nel momento in cui va ad sussistere detto ciò speriamo che quanto prima questa situazione venga risolta e che la pubblica amministrazione e il comune faccia qualcosa per pulire quest'area grazie